Ben ritrovati al nostro spazio dedicato agli appuntamenti. Per la mattinata di domenica 22 settembre a Valgoglio sarà organizzata un'escursione guidata in Val Sanguigno. Dalle 10 presso la centrale di Aviasco si partirà alla scoperta delle osi naturali delle Orobie per concludere con un pranzo al rifugio Giampace. Segnaliamo poi il gran finale della fiera di San Matteo a Branzi. A partire dalle 10 e 30 saranno presentati 10 nuovi itinerari turistici per valorizzare la Valle Brembana con ostiche d'eccezione l'attore Giorgio Pasotti. A partire dalle 17 presso il parco della chiesetta Stella Maris di Sarnico il ciclo fiato ai libri 2013 proporrà la voce di Livio Vianello e le musiche di Oreste Sabadin che daranno vita a tre scene da Moby Dick scelte e tradotte da Alessandro Barico per far gustare il sapore del mare. Sempre dalle 17 a Treviglio in piazzetta Santa Giuliana sarà proposto Flower Power un evento che farà tornare ai mitici anni 60 con animazione e musica dal vivo a partire dalle ore 20. Dalle ore 18 infine nel centro storico di Alzano Lombardo andrà in scena la festa di fine estate con una serie di eventi quali sfilate di moda, l'elezione di Miss Atalanta e per finire un tributo live a Luciano Ligabue. Grazie a tutti. 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 Grazie.